Lo squalo di Peter Benchley parte terza capitolo dodicesimo Il secondo giorno di caccia era calmo come il primo. Quando si allontanarono dal pontile alle sei di mattina, spirava una lieve brezza da sud-ovest che prometteva una giornata più fresca. Quando passarono Montauk Point c'era maretta, ma alle dieci quel venticello era caduto e il battello era immobile sulla liscia distesa d'acqua, come un bicchiere di carta in una pozzanghera. Non c'erano nubi, ma il sole era appannato da una densa foschia. Brody aveva sentito alla radio che l'inquinamento dell'aria a New York aveva raggiunto una fase critica. Si parlava di inversione di correnti. La gente si ammalava e di quelli che già erano malati alcuni morivano. Quel giorno Brody aveva indossato abiti più adatti. Aveva una maglietta bianca, a maniche corte, pantaloni di cotone leggero, calzini bianchi e scarpe da tennis. Si era anche portato un libro avuto da Hendrix per far passare il tempo, un giallo erotico intitolato La Vergine che Uccide. Non se la sentiva di occupare quelle ore facendo conversazione, una conversazione che avrebbe potuto sfociare in uno scontro come quello del giorno prima con Hooper. Se ne era vergognato e anche Hooper pensava. Quel giorno si scambiarono a malapena qualche parola, preferendo rivolgendosi quasi esclusivamente a Quinte. Brody temeva di non riuscire a essere neppure formalmente corretto con Hooper. Aveva notato che di mattina Quinte era silenzioso, chiuso nel suo mutismo. Bisognava strappargli le parole, ma con il trascorrere delle ore si lasciava andare e diveniva più loquace. Quella mattina, ad esempio, dopo che avevano preso il largo, Brody gli aveva chiesto in base a cosa sceglieva il punto in cui aspettare lo squalo. Bah! aveva risposto Quinte. Non lo sa? Quinte aveva scosso il capo. Allora come fa a decidere? Ne scelgo uno. Con che criterio? Nessuno. Non si basa sulle correnti? Beh, anche. E la profondità dell'acqua ha importanza? In parte. In che senso? Per qualche istante Brody pensò che Quinte non gli avrebbe risposto. Guardava fisso dinanzi a sé, gli occhi all'orizzonte. Poi, come se gli costasse uno sforzo enorme, disse Uno squalo così probabilmente non lo si trova in acqua troppo basse, ma non si sa mai. Brody capì che non era il caso di insistere. Meglio lasciare in pace Quinte. Ma l'argomento gli interessava, per cui chiese ancora Allora se lo troviamo, o lui trova noi, sarà solo fortuna? Più o meno. Come trovare un'agua in un pagliaio? Non proprio. Perché? Se la corrente è buona, in una giornata possiamo buttare una scia di pastura lunga 15 chilometri e più. Non sarebbe meglio star fuori anche la notte? E perché mai? Per fare una scia più lunga. Se in un giorno possiamo coprire 15 chilometri, fermandoci anche la notte ne copriremo 30 e passa. Un lavoro del genere non serve a niente. Perché? Verrebbe dispersa. A restare fuori un mese copriremo tutto l'oceano. E che ci caviamo? Quinte ebbe un soghigno, forse l'idea di una scia di pastura grande quanto l'oceano. Brody rinunciò e si immerse nella vergine che uccide. A mezzogiorno, Quinte era più ben disposto. Le lenze si trascinavano in acqua da più di quattro ore. Per quanto nessuno le avesse esplicitamente assegnato quel compito, appena erano arrivati a largo, Hooper si era seduto a poppa a gettare metodicamente pastura in mare. Verso le dieci, un pesce aveva boccato la lenza di dritta, offrendo qualche istante di emozione. Ma si trattava di un bonito di due o tre chili che non riusciva neanche a mordere l'amo. Alle dieci e mezzo, una piccola verdesca abbocò la lenza di sinistra. Brody la tirò su, Quinte la infilzò con la fiocina. Le aprì lo stomaco e la ributtò in acqua. L'animale addentò fiacamente qualche pezzo dei propri visceri, quindi scivolò giù nel profondo. Non sopraggiunsero altri squali. Poco dopo le undici, Quinte notò la guzza pinna dorsale di un pesce spada che li seguiva nella scia. Attesero in silenzio pregando che inghiottisse un'esca, ma quello ignorò i due calamari tenendosi a una cinquantina di metri verso poppa. Quinte diede uno stratone a una lenza per far muovere l'esca, come fosse viva, ma il pesce spada non vi badò. Alla fine Quinte decise di prenderlo con l'arpione. Accesse il motore, ordinò a Brody e Hooper di ritirare le lenze e fece tracciare al battello un ampio cerchio. Un arpione era già inserito sull'asta. Quinte spiegò la tattica. Hooper doveva governare la barca. Quinte si sarebbe portato sul pulpito di prua reggendo l'arpione sulla spalla destra. Come si fossero avvicinati al pesce, Quinte avrebbe indicato con l'asta, puntandola a destra o a sinistra, la direzione necessaria. Hooper avrebbe virato fino a rimettere l'arpione in linea retta con la prua. Era come seguire l'ago di una bussola. Se tutto andava bene sarebbero riusciti a sorprendere il pesce da dietro e Quinte avrebbe tirato l'arpione con un lancio quasi perpendicolare di 3 metri e mezzo circa. Brody sarebbe rimasto vicino al barilotto per assicurarsi che la gomena non si aggrovigliasse mentre il pesce andava sotto. Tutto filò liscio fino all'ultimo momento. Il battello, con il motore al minimo, appena un borbottio, arrivò lentamente sul pesce che stava quasi immobile vicino alla superficie. Il timone era molto sensibile e Hooper poteva seguire facilmente le indicazioni di Quinte. Ma l'animale avvertì la presenza della barca. Nel momento in cui Quinte sollevava il braccio per tirare, il pesce diede un colpo di coda lanciandosi in avanti e guizzò via verso il fondo. Quinte lanciò l'arpione urlando LURIDO SCHIFOSO E lo mancò di quasi 2 metri. Adesso si trovavano di nuovo al punto da cui avevano iniziato la manovra. Ieri mi aveva chiesto se ne capitano molte di giornate così, disse Quinte rivolto a Brody. Non capita spesso che ne infiliamo due di seguito. A questo punto dovremmo aver preso almeno qualche verdesca. È per via del tempo? Può darsi. Tira i nervi alla gente. Magari succede lo stesso anche ai pesci. Fecero colazione, panini e birra e quando ebbero finito Quinte controllò la carabina per vedere se era carica. Poi scese di sotto e tornò reggendo un apparecchio che Brody non aveva mai visto. Ha ancora la sua lattina di birra? domandò Quinte. Sì, a che le serve? Ora le faccio vedere. Quel congegno sembrava una granata a mano, un cilindro di metallo con un manico a un'estremità. Quinte infilò la lattina nel cilindro e avvitò finché si udì un click. Poi prese dalla tasca della maglietta una cartuccia salve calibro 22. L'inserì in un piccolo foro alla base del cilindro e poi girò il manico finché ci fu un altro click. Consegnò l'ordigno a Brody. La vede questa leva? chiese indicando l'estremità del manico. Lo tenga puntando verso il cielo e quando glielo dico prema. Quinte prese il suo M1, tolse la sicura, si appoggiò il calcio alla spalla e disse Via! Brody fece scattare la leva. Ci fu una detonazione forte, secca, un lieve sobbalzo e la lattina, sparata via, volò in aria, girando su se stessa e nella vivida luce del sole brillava come un razzo. Al colmine della sua traiettoria, in quella frazione di secondo in cui rimase sospesa in aria, Quinte fece fuoco. Mirò basso per colpire la lattina all'inizio della parabola discendente e centrò il fondo. Si sentì una specie di miagolio acuto e la lattina precipito in mare. Non affondò subito, ma galleggiò un po' sghemba, ondeggiando sul pelo dell'acqua. Vuole provarci? chiese Quinte. Questo è certo, rispose Brody. Veda di prenderla quando è al punto massimo e miri poco sotto. Se tira mentre sta salendo o mentre ricade, deve spostare la mira molto di più, ed è più difficile. Se la manca, punti più in basso anticipandola e spari ancora. Brody consegnò l'ordigno a Quinte prendendo l'M1 e si pose contro il parapetto. Appena Quinte ebbe ricaricato l'apparecchio, Brody disse Via! Quinte fece partire la lattina. Brody sparò un colpo. Niente. Tentò di nuovo al culmine della parabola. Niente ancora. E mirò troppo basso mentre ricadeva. Cribbio, non è uno scherzo. Ci vuole un po' di pratica, annui Quinte. Veda se ci riesci adesso. La lattina galleggiava diritta nell'acqua immobile, a 15 o 20 metri dalla barca, emergendo a metà. Brody prese la mira volutamente un po' bassa e tirò il grilletto. Ci fu uno schiocco metallico quando il proiettile la colpì all'altezza dell'acqua. La lattina scomparve. Hooper? disse Quinte. C'è ancora una lattina e possiamo sempre bere dell'altra birra. No, grazie, rispose Hooper. Come mai? È solo che non mi va di sparare, ecco. Quinte sorrise. Si preoccupa per quelle lattine in acqua? Certo che scarichiamo in mare un bel po' di banda stagnata. Probabilmente arrugidiscono e cadono sul fondo e fan disordine dappertutto. Non è questo, replicò Hooper, attento a non abboccare all'esca di Quinte. Non c'è un motivo particolare, solo che non ne ho voglia. Ha paura delle armi? Paura? No. Ha mai sparato un colpo? Brody, affascinato, osservava Quinte che incalzava e Hooper si sottraeva, ma non capiva i motivi di Quinte. Forse, quando non prendeva pesci e si annoiava, diventava aggressivo. Neanche Hooper capiva perché Quinte si comportava in quel modo, ma la cosa comunque non gli piaceva. Intuiva che quella manovra aveva un qualche fine. Certo, rispose. Mi è capitato di sparare. Dove? Sotto le armi? No, io... Ha fatto il militare? No. Già, lo pensavo. Beh, cosa vorrebbe dire? Cribbio, scommetterei perfino che è ancora vergine. Brody fissò il viso di Hooper per leggervi la reazione e per un attimo ne incrociò lo sguardo. Hooper distorse subito gli occhi. Cominciava ad arrossire. Che le piglia, Quinte, dove vuole arrivare? Quinte si appoggiò allo schienale del sedile e soghignò. A niente, rispose. Solo quattro chiacchiere per far passare il tempo. Le spiace darmi la sua lattina di birra quando l'ha finita? Magari a Brody piacerebbe tentare ancora. Faccia pure, rispose Hooper. Ma mi lasci in pace, va bene? Un'ora trascorse in silenzio. Brody sonecchiava sul suo sedile con un cappello calato sul volto a ripararsi dal sole. Hooper sedeva a poppa a versare pastura e ogni tanto scrollava il capo per tenersi sveglio. E Quinte stava sul ponte sopraelevato, a osservare la scia, il berretto spinto indietro. A un tratto, la voce di Quinte, inespressiva, calma, indifferente. Abbiamo visite? Brody si riscosse di colpo. Hooper si alzò. La lenza di dritta filava via veloce, senza strattoni. Prenda la canna, ordinò Quinte. Si strappò via il berretto, lasciandolo cadere sulla panca. Brody tolse la canna dallo scalmo, l'infilò nel supporto del suo sedile e la tenne ben stretta. Quando glielo dico io, continuò Quinte, blocchi il mulinello. La lenza si fermò. Un momento, si sta girando. Tra poco ricomincia. Meglio non dargli strattoni adesso, altrimenti spuntalamo. Ma la lenza rimase immobile in acqua, floscia, senza un fremito. Dopo parecchi secondi Quinte disse, mi venga un colpo. Riavvolga! Brody girò il mulinello e la lenza venne sulliscia. Fin troppo. Non si sentiva neppure la debole resistenza dell'esca. Tenga il filo con due dita, altrimenti si arruffa, consigliò Quinte. Qualunque cosa fosse si è soffiato via l'esca, dolce come un bacio. Il filo è merse dall'acqua a penzolare dalla canna. Non c'era amo, né esca, né la lenza supplementare. Il filo metallico era stato tranciato di netto. Quinte balzò giù dal ponte superiore. La ferrò facendo scorrere le dita attorno all'estremità mozzata, poi scrutò la scia. Credo che abbiamo incontrato il vostro amico, disse. Che? Sbottò Brody. Hooper saltò giù dalla traversa esclamando eccitato. Ma scherza! È fantastico! È solo un'idea, rispose Quinte, ma ci scommetterei. Questo filo è stato reciso pulito pulito, al primo colpo, nessuna difficoltà. Non ci sono altri segni. Quella bestia probabilmente non si è neppure accorta di averlo in bocca. Ha semplicemente ingoiato l'esca, ha richiuso la bocca ed è bastato. E allora che facciamo adesso? Chiese Brody. Aspettiamo di vedere se si prende anche l'altra, o se viene su. Perché non buttiamo la focena? Solo quando saprò che è proprio lui, rispose Quinte. Quando gli avrò dato un'occhiata e saprò che quel bastardo è abbastanza grosso da meritarsela, allora gli servo la focena. Sono come le macchine trita rifiuti, quelle bestie, e non voglio sprecare un'esca così per una mezza cartuccia. Attesero. Nulla si muoveva in superficie, né guizzi di pesci, né uccelli che si tuffavano. L'unico suono era il tonfo molle della pastura che Hooper rovesciava in acqua. Poi la lenza di sinistra cominciò a filare. La lasci nello scalmo, disse Quinte. Inutile darsi da fare se poi mi trancia anche questa. L'adrenalina scorreva nel corpo di Brody. Era un tempo emozionato e spaventato, sgomento al pensiero dell'animale che nuotava sotto di loro, una creatura di cui non riusciva a immaginare la forza. Hooper era fermo vicino al parapetto, a fissare come ipnotizzato la lenza che scorreva via. Il filo si arrestò e perse tensione. Merda, borbottò Quinte. Lo stesso scherzo. Prese la canna dal sostegno e cominciò a girare il mulinello. La lenza è emersa e recisa esattamente come la prima. Tentiamo ancora una volta, disse Quinte. Adesso ci piace qualcosa di più resistente. Non che potrà bloccarlo, se è l'animale che credo io. Cercò nella ghiacciaia un'altra esca e ne tolse il filo metallico. Da un cassonetto della cabina di comando prese una catena grossa un dito e lunga poco più di un metro. Sembra un guinzaglio, commentò Brody. Lo era, infatti, rispose Quinte. Ne fissò un'estremità al lamo innescato e l'altra alla lenza. Riuscirà a tranciarla? Immagino di sì. Magari gli ci vorrà un po' più di fatica, ma se vuole ce la fa. Sto solo cercando di stuzzicarlo un po' e farlo salire in superficie. E se non funziona, che si fa? Ancora non lo so. Potrei prendere un amo da squali e una catena come si deve, buttarla in acqua con un bel po' di esca attaccata. Ma se abboccasse non saprei cosa fare. Mi strapperebbe via tutte le galocce dalla barca. E finché non lo vedo con i miei occhi, non mi sogno di sprecare materiale prezioso. Quinte buttò in acqua l'amo innescato facendolo seguire da qualche metro di lenza. Avanti malnato, borbottò. Fatti un po' vedere. I tre rimasero a fissare la lenza. Hooper si chinò, prese un ramaiolo di pastura e lo vuotò in acqua. Con la coda dell'occhio scorse qualcosa a sinistra. Si girò e quel che vide gli strappò un'esclamazione rauca, inarticolata, ma sufficiente a far voltare anche gli altri due. Gesù Cristo! Gio, balbettò Brody. A meno di tre metri da poppa, un po' verso dritta, si delineava un muso piatto e allungato dello squalo, che emergeva dall'acqua di circa mezzo metro. La parte superiore della testa era grigiastra e vi si aprivano gli occhi neri. Ai due lati del muso, in fondo, laddove il grigio sfumava in un bianco sporco, c'erano gli spiracoli, profonde aperture nella pelle durissima. La bocca era aperta a mezzo, oscura, fosca caverna protetta da enormi denti triangolari. Uomini e squalo rimassero a fissarsi per una decina di secondi. Poi Quint urlò, «Prendete un ferro!» e, ubbidendo a se stesso, corse a prua e cominciò a recuperare un arpione. Brody afferrò il fucile, ma proprio allora lo squalo si lasciò scivolare dolcemente all'indietro nell'acqua. La lunga coda semilunata ebbe un guizzo. Brody mirò e la mancò, e l'animale disparve. «E' andato!» mormorò Brody. «Fantastico!» esclamò Hooper. «Quella bestia è proprio come l'avevo immaginata. È meglio ancora! Incredibile!» «La testa doveva essere larga più di un metro!» «Può darsi!» disse Quint, venendo a poppa. Depositò due arpioni, due barili e due rotoli di gomena. «Nel caso che torni!» spiegò. «Ha mai visto uno squalo del genere, Quint?» domandò Hooper. Gli brilliavano gli occhi, si sentiva elettrizzato, vibrante. «Direi di no!» rispose Quint. «Quanto è lungo, secondo lei?» «Difficile dirlo. Sei metri, magari di più, non so. Con quelle bestie lì, passati sei metri, non fa molta differenza. Una volta che toccano i sei metri, sono grane. E sto dannato in una grana.» «Dio, spero proprio che torni!» disse Hooper. Brody fu percorso da un brivido. «Mi ha fatto una strana impressione!» mormorò. «Aveva l'aria di soghignare!» «È l'effetto che fa quando tengono la bocca aperta!» spiegò Quint. «Non lo faccia più di quello che in effetti è solo un bestione scemo pronto a ingollare di tutto!» «Come può dirlo?» ribatte Hooper. «Quell'animale splendido! Una di quelle cose che fanno credere in Dio! La dimostrazione di quel che riesce a fare la natura quando vuole!» «Le palle!» replicò Quint, risalendo alla scaletta del ponte superiore. «Ha intenzione di usare la focena?» vuole sapere Brody. «Inutile! L'abbiamo attirato in superficie una volta! Tornerà!» In quel mentre, un rumore fece voltare Hooper, un suono sibilante, un fruscio liquido. «Guardate!» disse Quint. A dieci metri da loro, una pinna dorsale triangolare, alta più di trenta centimetri, puntava verso il battello, fendendo l'acqua in cui lasciava una piccola scia increspata. Era seguita da un'alta coda che dava rapidi colpi possenti. «Ci viene addosso!» e instintivamente indietreggiò fino a urtare contro il suo sedile. Quint si precipitò giù imprecando. «Niente preavviso stavolta!» commentò. «Mi dia quel ferro!» Lo squalo era quasi addosso alla barca. Solevò la testa piatta. Uno di quegli occhi cupi fissò indifferente Hooper, poi si immerse per passare sotto il battello. Quint sollevò l'arpione e si girò verso Babordo. L'asta andò a urtare contro il sedile di Brody, e la punta d'acciaio si staccò cadendo sul ponte. «Porco fottuto!» «E ancora lì?» si chienò ad afferrare l'arpione che ricacciò nell'asta. «E' dalla sua parte!» gridò Hooper. «Di qui è già passato sotto!» Quint si volse in tempo per vedere la sagoma grigio scuro dello squalo che si allontanava dal battello per inabissarsi. Mollò l'arpione e, in un impeto di rabbia, afferrò la carabina e la scaricò in acqua dietro l'animale. «Bastardo!» ringhiò. «Dammi un po' di preavviso la prossima volta!» poi lasciò il fucile e si mise a ridere. «Dovrei ringraziare il cielo, probabilmente», commentò. «Per lo meno non è venuto addosso alla barca!» lanciò un'occhiata a Brody e aggiunse «Le ha fatto venire un mezzo colpo, eh?» «Più che mezzo!» mormorò Brody. Scosse il capo come per riordinarsi le idee. «Ancora non riesco a crederci!» Nella mente gli turbinavano ancora le immagini di una grande forma scura allungata che nel buio risaliva verso l'alto per sbranare Christine Watkins, del piccolo sul materassino di gomma, ignaro e tranquillo, improvvisamente preda di una creatura d'incubo, e degli altri incubi che, lo sapeva, lo avrebbero perseguitato. Sogni di violenza e sangue e di una donna a urlargli che le aveva assassinato il figlio. «Non ditimi che è un pesce!» disse. «Sembra piuttosto uno di quegli affari che si vedono in certi film. Sapete, il mostro degli abissi!» «Si tratta proprio di un pesce!» replicò Hooper, ancora visibilmente emozionato. «E che pesce! Quasi un megalodon!» «Di che diavolo sta parlando?» chiese Brody. «Ho un po' esagerato», ammise Hooper. «Ma se c'è una bestia del genere a vivere in mare, come si può affermare che non ci sia anche il megalodon?» «Lei che ne pensa, Quint?» «Io penso che il sole le abbia picchiato in testa.» «No, sul serio, che lunghezza possono raggiungere questi squali, secondo lei?» «Io non so tirare e indovinare. Direi che questo è su sei metri, per cui dico che arrivano ai sei metri. Se domani ne vedo uno lungo sette metri, dico che arrivano ai sette.» «Far congetture lascia il tempo che trova.» «Ma a che lunghezza possono arrivare, insomma?» vuole sapere Brody. E subito si pentì di averlo chiesto. Quella domanda lo metteva in condizioni di inferiorità rispetto a Hooper. Ma questi al momento era troppo eccitato, troppo elettrizzato ed entusiasta per assumere un atteggiamento paternalistico. «È proprio questo il punto», rispose. «Nessuno lo sa. In Australia ne hanno recuperato uno che si era impigliato in certe catene, ed era morto per asfissia, e quasi toccava i dodici metri. Almeno così hanno detto. E cioè il doppio di questo?» commentò Brody. Già gli era difficile accettare l'animale che aveva appena visto, impossibile visualizzare l'immensità di quello descritto da Hooper. Hooper a noi. In genere si considera che i dieci metri siano la lunghezza massima, ma è una supposizione arbitraria. E come ha detto Quint, «Se domani ne vedessimo uno di venti lo prenderemmo per quel che è. Quel che dà i brividi, quel che veramente sconvolge, è immaginare che, e potrebbe essere che nelle zone abissali ci siano squali bianchi lunghi fino a 30-35 metri». «Minchiate», disse Quint. «Non sto affermando che ci siano», precisò Hooper, «ma solo che potrebbero esserci». Sempre minchiate. «Forse, o forse no. Senta, il nome in latino di questo animale è Carcharodon carcarias. Il suo antenato più prossimo è un pesce chiamato Carcharodon megalodon, estinto circa 30-40 mila anni fa. Abbiamo trovato i resti fossili dei denti del megalodon, lunghi 15 centimetri, di conseguenza doveva essere lungo dai 25 ai 35 metri. E i denti sono perfettamente uguali a quelli che troviamo oggi negli squali bianchi. Voglio dire, insomma, che questi due animali potrebbero in realtà appartenere alla medesima specie. Chi può dire che il megalodon sia davvero istinto? E perché dovrebbe? Non certo per mancanza di cibo. Se ce n'è abbastanza per le balene, ce n'è di certo anche per tenere in vita squali di queste dimensioni. Il semplice fatto che non abbiamo mai visti di lunghi 30 metri non significa necessariamente che non ci sono. Non avrebbero motivo di salire in superficie. Tutte le loro fonti di nutrimento si troverebbero giù negli abissi e da morti non verrebbero ad arenarsi sulle coste perché non hanno vescica natatoria. Ve lo immaginate uno squalo lungo 35 metri? Vi figurate cosa potrebbe fare? Che forza avrebbe? Non voglio neanche pensarci, dichiarò Brody. Sarebbe una specie di locomotiva con una bocca irta di coltellacci da macellaio. Vuole dire che questo è solo un esemplare giovane? Brody cominciava a sentirsi abbandonato a se stesso, vulnerabile. Un animale grande come quello che Hooper stava illustrando poteva ridurre in briciole quel battello. No, è uno squalo adulto, rispose Hooper. Di questo sono sicuro, ma è come per gli uomini. Alcuni sono alti 1,50, altri 2,10. Accidenti, mi piacerebbe proprio vedere un grosso megalodon. Ma lei è matto, commentò Brody. Ma no, ci pensi un po'. Sarebbe come trovare l'abominevole uomo delle nevi. Ehi Hooper, intervenne Quint. Ce la fa a piantarla con le favole e a mettersi a buttar pastura? Ci terrei abbastanza a prendere quella bestia. Certo, a noi Hooper. Riprese il suo posto a poppa, rimettendosi al lavoro. Pensa che tornerà? Chiese Brody. Non so, rispose Quint. Non si può mai dire cosa faranno quei bastardi. Prese di tasca un taccuino e una matita. Tese il braccio sinistro puntandolo verso terra. Chiuse l'occhio destro mirando lungo l'indice della sinistra, poi scrive a chi ho qualcosa. Spostò la mano di qualche centimetro a sinistra, mirando di nuovo, e prese un altro appunto. Prevenne la domanda di Brody, spiegando Segno la nostra posizione, voglio sapere dove ci troviamo, in modo che se per quest'oggi non si fa più vedere, so dove tornare domani. Brody guardò la costa. Anche riparandosi con la mano e socchiudendo gli occhi, riusciva appena a scorgere un'indistinta linea grigiastra. A cosa fa riferimento? Il faro sul promontorio e la torre del serbatoio in città. Sono allineate in modo diverso a seconda di dove ci si trova. Riesce a vederli? Brody aguzzò la vista ma riuscì a distinguere solo una piccola protuberanza. Sicuro? Anche lei ci riuscirebbe se fosse stato in mare per trent'anni. Hooper sorrise. Crede davvero che lo squalo rimarrà nella zona? Non lo so, replicò Quint. Ma è qui che l'abbiamo trovato oggi e non l'abbiamo mai visto da altre parti. E si è sempre tenuto nei paraggi di Emity, questo è sicuro, aggiunse Brody. Perché ha trovato cibo? Osservò Hooper. Non c'era eronia o provocazione nel suo tono, ma quella frase penetrò come un ago nel cervello di Brody. Attesero altre tre ore, ma lo squalo non ricomparve. La corrente diminuì, rallentando ancora più la scia di pastura. Poco dopo le cinque, Quint disse Possiamo anche rientrare, ci siamo rotti abbastanza. Dove pensa che sia andato? Chiese Brody. Domanda uzziosa. Sapeva che non c'era risposta. Dove gli pare? Rispose Quint. Quando li cerchi non si fanno trovare. E solo quando non li vuoi e non te li aspetti che te li trovi davanti. Maledetto spirito di contraddizione. E ha detto che non è il caso di passare qui la notte per continuare a pasturare. No, glielo ho spiegato. Se la scia si allarga troppo non serve più a niente. E poi non abbiamo da mangiare. E in definitiva non mi pagate per 24 ore al giorno. Se riuscissi a mettere insieme il denaro ci starebbe? Quint riflette un istante. No, però mi tenta perché non credo che potrebbero succedere grandi cose di notte. La scia di pastura si allargherebbe disperdendosi. E anche se quello venisse a un metro da noi a guardarci in faccia, neanche ce ne accorgeremmo. A meno che ci tiri un morso. Per cui mi intascherei i vostri quattrini solo per farvi dormire a bordo. Ma non accetto per due motivi. Primo, se la scia si allarga troppo siamo fregati per il giorno dopo. Secondo, di notte preferisco tenere la barca all'ormeggio. Non posso darle torto, assentì Brody. Anche sua moglie preferirà averla a casa la notte. Quint replicò in tono piatto. Non ho moglie. Oh, mi spiace. Non è il caso. Mai sentito il bisogno di averne una. Quint si volse e risalì la scaletta del ponte sopraelevato. Ellen stava preparando la cena per i ragazzi quando suonò il campanello della porta. I tre stavano guardando la televisione nel soggiorno e lei gridò «Uno di voi vada ad aprire, per favore!» Sentì l'uscio che veniva aperto, lo scambio di qualche parola e poi, dopo qualche istante, scorse l'arrivone sulla soglia della cucina. Erano passate meno di due settimane dall'ultima volta che l'aveva visto, ma era talmente cambiato che rimase a guardarlo sbalordita. Come sempre era inappuntabile. Giacca blu a due bottoni, camicia classica, pantaloni grigi e moccasini di Gucci. Ma il volto era cambiato. Bone era dimagrito e, come molti che non hanno eccesso di grasso, lo si notava soprattutto nel viso. Gli occhi si erano infossati e a Ellen parvero più chiari del solito. Un grigio opaco. Anche la pelle era grigiastra e si afflosciava sotto gli zigomi. Aveva le labbra umide, continuava a passarvi la lingua. Si accorse di fissarlo e, imbarazzata, abbassò lo sguardo e disse «Salve Larry!» «Ciao, Ellen!» «Sono passato per...» Vaughn fece qualche passo indietro e sbirciò nel soggiorno. «Prima di tutto potrei avere qualcosa da bere?» «Ma certo!» «Sai dov'è tutto quanto, serviti!» «Fare io, ma ho le mani impiastricciate!» «Figurati, mi arrangio da solo!» Vaughn aprì l'armadietto dove c'erano i liquori, tirò fuori una bottiglia e si versò un buon bicchiere di ginne. «Come dicevo prima, sono passato per salutarti!» Ellen smise di rigirare i pezzi di pollo nel tegame e chiese «Ve ne andate?» «Per quanto!» «Non so, forse per sempre. Qui per me non c'è più niente da fare.» «E la tua agenzia?» «Andata. O è lì lì?» «Come sarebbe a dire andata?» «Una agenzia non sparisce così.» «Già, ma non sarà più mia.» «Quel po' di capitale che resta passerà ai miei...» «Soci.» Sputò quella parola e poi, come per sciacquarsi la bocca da un sapore sgradevole, presse una lunga sorsata di ginne. «Martin ti ha detto del nostro colloquio?» «Sì.» Ellen abbasso lo sguardo sul tegame mescolando. «Immagino che tu non abbia più una grande stima di me.» «Non sta a me giudicarti Larry. Non ho mai voluto nuocere a nessuno. Spero che tu mi creda.» «Ti credo. Eleanor è al corrente?» «Non sa nulla, poveretta. Voglio risparmiarla, se possibile. Questo è uno dei motivi per cui preferisco andarmene. Mi ama, lo sai. E io non voglio distruggere questo affetto. Né per lei, né per me.» Vaughn si appoggiò al lavandino. «Sai una cosa? Qualche volta penso, e ci ho pensato spesso in questi anni, che tu e io avremmo fatto una magnifica coppia.» Ellen a Rossi «Cosa vuoi dire? Tu vieni da una buona famiglia. Conosci tutta la gente che io sono riuscito ad avvicinare solo con molti sforzi. Saremmo stati bene insieme e ben inseriti ad Emity. Sei una donna bella, buona e forte. Saresti stata preziosa per me. E penso che avrei potuto offrirti una vita piacevole.» Ellen sorrise. «Non sono forte quanto pensi, Larry. Non credo che ti saresti stata così... preziosa.» «Non sottovalutarti. Spero solo che Martin sappia apprezzarti come meriti.» Vaughn finì il gin e mise il bicchiere nel lavello. «Ad ogni modo è inutile perdersi in fantasie.» S'avvicinò ad Ellen, le mise una mano sulla spalla e la baciò sul capo. «Addio, mia cara», mormorò. «Pensa a me ogni tanto.» Ellen lo fissò. «Certo.» «Lo baciò sulla guancia.» «Dove andrete?» «Non so ancora. Forse nel Vermont o nel New Hampshire.» «Potrei vendere terreni agli appassionati di sci. Chi lo sa. Magari mi darò anche io lo sci. L'hai già detto a Eleanor.» «Gli ho detto che forse ci saremmo trasferiti.» Ha sorriso e ha detto «Come vuoi tu.» «Partirete presto?» «Non appena avrò parlato con i miei avvocati circa i miei... passivi.» «Mandateci una cartolina per farci sapere dove siete.» «Senz'altro. Arrivederci.» Vaughn uscì ed Ellen sentì la porta che si richiudeva alle sue spalle. Dopo aver fatto cenare i ragazzi, Ellen salì di sopra e sedete sulla sponda del letto. «Una vita piacevole», aveva detto Vaughn. «Che genere di vita avrebbe potuto offrirle? Buone condizioni finanziarie e prestigio sociale? Non avrebbe mai dovuto rimpiangere la sua vita di ragazza che non avrebbe visto interruzioni? Non desiderio di evasioni, di sicurezza e conferma dalla propria femminilità? Non il bisogno di un'avventuretta con un Hooper?» «O forse no.» «Magari ci sarebbe stata spinta dalla noia, come capitava a tante signore che venivano in vacanza dei miti lasciando i mariti a New York.» «La vita con Larry Vaughn sarebbe stata un'esistenza senza lotta, una vita di facili soddisfazioni.» Mentre rifletteva su quanto le aveva detto Vaughn, cominciò a rendersi conto di quanto la sua attuale vita fosse piena. Un rapporto con Brody molto più profondo di quello che Larry Vaughn avrebbe mai potuto offrirle, una mescolanza di piccoli ostacoli e piccoli trionfi che, assommati, davano qualcosa di molto simile alla gioia. E con il chiarirsi di questi pensieri venne il rammarico di aver impiegato tanto a capire lo spreco di tempo e di emozioni con quel suo aggrapparsi al passato. D'un tratto ebbe paura, paura di cominciare a crescere troppo tardi, paura che qualcosa potesse succedere a Brody prima di poter godere con lui quella nuova consapevolezza. Guardò l'orologio, le 6 e 20, avrebbe dovuto essere a casa ormai. Gli è successo qualcosa, pensò. Oddio, ti prego, non a lui. Sentì aprirsi la porta d'ingresso. Si alzò di scatto, corse sul pianerotolo e giù per le scale. Buttò le braccia al collo di suo marito e lo baciò con forza sulla bocca. Santi Dio, commentò lui quando lo lasciò andare. Questo sì che è un benvenuto.